L'ultimo cocktail che vi propongo è un cocktail analcolico. È composto da latte di mandorla, chai syrup, ovvero uno sciroppo aromatizzato con spezie e essenze, e del tè al bergamotto. Il latte lo andiamo a versare freddo e già miscelato al chai syrup. E completiamo il drink con del tè invece caldo, bollente, appena fatto al bergamotto. È un drink quindi che risulta tiepido e servito in una mug di rame. E lo andiamo a guarnire con dell'anice stellato e degli stecchi di cannella al suo interno. Questo è un cocktail versatile per tutto perché è comunque molto dolce. L'ideale forse sarebbe abbinato al torrone appunto per le note di mandorla che ha al suo interno. Grazie a tutti.